Ecco ciò che devi fare quando è il momento di un duello. Per prima cosa, trova qualcuno con cui fare un duello. Tu, Joey. Qua? Siamo pronti a rilassare le scuole frilli e a rilassare? Scusate, non ne vado a rilassare a te. Per giocare, tu e il tuo avversario avrete bisogno di un deck ciascuno. Una volta trovato un avversario, come prima cosa mescolate i vostri deck. Ora, mettiamo i nostri deck e mettiamo il show inizio, non? Sto guardando. Dopodiché mescolate e tagliate con cura l'uno il deck dell'altro. Poi giocate a morna cinese, tirate una moneta o lanciate un dado. Chi vince, sceglie chi sarà a giocare il primo turno del duello. Infine, pescate entrambi dal vostro deck le prime cinque carte. È finalmente giunto il momento per un duello. Ogni giocatore inizia il duello con 8000 life points. Vince chi fa scendere a zero i life points dell'avversario. Non è possibile! Mi ha vinto! In realtà ha vinto! È possibile vincere anche quando l'avversario non ha più carte da pescare dal suo deck. Esistono anche delle carte molto speciali che ti permettono di vincere automaticamente il duello a patto di soddisfare determinate condizioni. Ho assemblato tutte le cinque carte speciali, tutte le cinque pezzi del puzzle. Exodia! Obliterate! Ora che sai come si inizia e come si vince, nella prossima lezione imparerai che cosa puoi fare durante il tuo turno. O cosa stai? Allora! O cosa stai? Allora che stai cittadino. O cosa stai cittadino. O cosa stai cittadino. O cosa stai cittadino è arrivata? Grazie.